L'unica cosa che non vi so dire di Venezia è dove mangiare decentemente. Provo ogni volta e ogni volta finisco in un posto se mangia male. Cioè io vorrei solo un piatto de pasta bono. Chiedere tanto? Non lo so. Ogni volta alla fine una trappola per turisti, ovunque. Please help nei commenti. Ciao Cactus e benvenuto in questo nuovo fallimentare vlog. Io ci provo sempre a farli diventare dei travel vlog o qualcosa di simile e alla fine escono solo come un disagio. Che cosa sono qui oggi a fare con il mio telefono in mano? È a portarvi con me a Venezia ma indifferita. Io sono scappata a Venezia per due semplici motivi. A. Ne avevo bisogno. B. C'era la biennale. Quest'anno ci doveva essere la biennale d'arte normale ma visto che quella di architettura dell'anno scorso è stata spostata quest'anno c'era la biennale di architettura. E io non l'avevo mai vista quindi perché no? Erano anni che volevo fare un tipo di video di questo genere so che non interesserà tantissimi ma ce ne frega altamente. Perché faccio questo video anche se non interessa a nessuno? Non importa. Non importa perché credo che la biennale sia veramente un dono. Una cosa bellissima che succede nel mondo ogni due anni anche quella di architettura. Ora poi alla fine vi dirò chi preferisco e perché. Ma trovo che sia incredibile. Possa interessare veramente a chiunque. Io non sono nessuno. Non ho formazioni d'arte moderna. Non so niente. Vado lì da profana e da profana è uno dei giorni... Sono alcune delle giornate più belle di tutto l'anno quando ci vado. Soprattutto se siete dei creativi o lavorate in ambito creativo non potete mancare. Ma anche se siete persone qualunque non potete mancare. Fidatevi. È sempre una gioia vedere dell'arte che prende vita in questo modo. Se riuscirò a convincere anche solo uno di voi ad andare alla biennale d'arte l'anno prossimo sarò felicissima. Che cos'è la biennale d'arte di Venezia? La biennale d'arte di Venezia si posiziona tra quegli incredibili eventi di mostre espositive mondiali che in questo caso accolgono l'arte. L'arte da tutto il mondo iniziando principalmente dall'Europa e poi allargandosi al giorno d'oggi veramente a tutto il mondo. Infatti la prima edizione è stata nel 1859. In che cosa consiste appunto la biennale? Se all'inizio era quasi un escamotage tra virgolette per vendere arte ora è proprio una vera e propria gioia espositiva qualcosa che ti fa capire che l'arte moderna esiste ed è incredibile nella maggior parte dei casi. Poi ovviamente entra il gusto personale. Ok che quest'anno è quella che vi sto per mostrare è la biennale di architettura ma si basa sugli stessi concetti, stessi spazi solo che appunto è più centrata sull'architettura io l'ho apprezzata molto, vi spiegherò anche perché ma vi consiglio sinceramente di andare a vedere quella d'arte l'anno prossimo. Perché? Che cosa si differenzia? In realtà si chiama biennale ovviamente dal nome perché viene fatta ogni due anni quindi se un anno avviene quella della biennale d'arte l'anno dopo ci sarà una biennale ma sarà di architettura e così a scambio, a cerchio fino alla fine dei tempi. Quando vi dico che sono strutturata allo stesso modo è perché è esattamente strutturata allo stesso modo io sono... Generalmente io la vedo in due giorni se ne possono anche prendere molti di più se volete essere più precisi e specifici ma ogni volta è un incubo riuscire a trovare due giorni in cui non sia piena di gente barra non ci sia troppo lavoro da fare e due giorni al massimo che mi posso permettere quindi per il momento è così. In due giorni si fa un giorno ai giardini e un giorno all'arsenale ma ci arriviamo. Io mi sono svegliata sono andata alla mia stazioncina centrale ho preso il mio treno da Milano a Venezia che dura tre orette qualcosa e sono arrivata a Venezia Santa Lucia la stazione di Venezia Santa Lucia è una delle stazioni più belle in Italia secondo me si apre su questo incredibile visuale di canali e tutto questo rimestio di gente barche, robe, ok la cosa che vi consiglio assolutamente se andate direttamente a la biennale è di prendere il 5.1 mi sembra una nave bus che porta esattamente alla stazione giardini perché io vi consiglio di iniziare con i giardini quando vi dico che la biennale è divisa in due parti è perché la biennale inizialmente è stata creata con i giardini dove ci sono i padiglioni di alcune delle città europee più importanti se non tutte le città europee più importanti incredibili anche solo le strutture ma vediamo come funziona non so se troverò una mappa ma sicuramente i giardini sono l'ambientazione più affascinante o almeno quella che preferisco è anche scomoda perché se piovesse sono all'aperto voi siete letteralmente in un'area di un parco dove ci sono tutti questi padiglioni di diverse città europee dove ogni città espone la propria proprio pensiero sulla tematica data quell'anno esattamente perché che sia di architettura che sia d'arte ogni biennale ha una sua tematica che viene dichiarata dal titolo della biennale e quella del 2019 si intitolava May you live in interesting times May you live in interesting times Già Spero di trovarvi qualche elemento anche di quella del 2019 da mostrarvi ogni tanto ma sappiate che più o meno la biennale funziona in questo modo meno per la mia opinione da profana ovvero che ci sono tantissime cose belle tantissime medie ad esempio io non sono una super fan dei video come unico mezzo di comunicazione funzionano bene come complemento per chi ha tempo di guardarli ma i padiglioni che si basano esclusivamente sul video non mi piacciono molto non mi piace ma ogni biennale appunto ha poi le sue punte di diamante come qualunque cosa ci sono opere che ho visto durante gli anni io ci vado dal 2012 mi sembra che veramente sono diventate opere di importanza mondiale ad esempio nel 2019 c'era quest'opera qui di cui mi dimentico sempre il nome da un artista giapponese se non mi ricordo male vederla dal vivo era qualcosa di incredibile trattava questo animale ve ne ho già parlato in qualche video ma era questo braccio meccanico che si comportava come un animale braccato dentro questa stanza dove il pavimento era ricoperto di sangue finto questa bestia stava cercando di pulire la chiamo bestia perché letteralmente si comportava come un animale in trappola molto preoccupato e stava cercando di pulire e a libera interpretazione se il pavimento fosse colpa sua oppure semplicemente stesse facendo il suo lavoro o anche il padiglione del Giappone di due anni prima quindi 2017 il padiglione delle chiavi giapponese a parte che i giapponesi danno sempre il 100% se non di più dei deliver always è diventata una delle opere d'arte moderna più importanti, più chiacchierate insomma, alla biennale se partecipate sicuramente vedrete qualcosa di valido ma ritorniamo al percorso io faccio sempre un cerchio dove si inizia dalla Spagna che è subito sulla vostra sinistra e poi tutto intorno fino ad arrivare all'ultimo padiglione che penso sia la Russia se non mi ricordo male o comunque giù di lì voi potete fare esattamente come vi pare quello che vi posso dire è che generalmente le giornate sono scandite con arrivo a Venezia arrivo ai giardini prima parte dei giardini panino perché ogni biennale cioè sia l'arsenale che i giardini hanno ovviamente un bar panino tutto il resto da biennale giro per Venezia relax, dormita, pascia giorno dopo arsenale tutto l'arsenale panino e poi si torna via ovviamente questa è veramente una versione super fast perché non ho tempo però si può fare nel caso anche voi abbiate poco tempo il biglietto costa 25 euro mi sembra 16 o 14 per gli under 26 e vale ogni centesimo anche perché un biglietto vi dà l'accesso ai giardini e all'arsenale quindi vedete due cose in realtà quindi che cosa fate? ai giardini è un percorso molto più vago perché potete scegliere voi quali padiglioni fare per primi io appunto seguo l'ordine circolare per essere sicura di non dimenticarmene nessuno ho sempre i miei preferiti quest'anno la Spagna mi ha stupito ad esempio a volte ci sono delle opere che secondo me c'entrano anche per gli ignoranti come me e quest'anno era la Spagna il tema di quest'anno della Biennale di Architettura è sempre molto covitoso ovvero how we will live together gli artisti si sono presi varie interpretazioni e la Spagna ha deciso di andare su quello che sceglierei io uncertainty ah ovviamente la Biennale essendo basata in Italia ha tantissime parti in italiano ma probabilmente per comprendere al meglio l'esperienza dovete sapere un pochino l'inglese uncertainty di la Spagna è uno su cui mi soffermerò di più perché secondo me è uno dei più belli quest'anno hanno preso tutti questi portfogli di architetti spagnoli raccolti, intervistati hanno fatto anche delle bellissime infographic design su come si sentono rispetto al futuro come si sentono rispetto al presente e hanno preso tutti questi fantastici fogli di portfolio e ne hanno reso un muro imbalicabile che vola via come tutte le nostre speranze veramente bellissimo secondo me tocca a tutti i punti che mi piacciono di questo tipo di opere ovvero l'effetto wow che è importante è importante la complessità e soprattutto la chiarezza del messaggio cosa che non sempre è così andando avanti appunto la Biennale di Architettura è un po' più sottotono rispetto a quella dell'arte però io l'ho trovata molto affascinante perché si prendono due strade molto differenti se la Biennale d'Arte essendo artisti da il massimo della follia generalmente a volte da diventare incomprensibile o forse da andare completamente fuori dai temi l'architettura invece sembra quasi che tutti i padiglioni si siano fatti veramente e sinceramente una domanda e abbiano cercato di dare una risposta molto pratica a volte forse troppo pratica per una Biennale a volte pratica il giusto pratica il giusto ad esempio il padiglione dell'Olanda se non mi ricordo male se non mi è giusto qua sopra mi sono chiesti la domanda chi siamo noi? who are we? che è molto intelligente è un punto di spunto è esattamente questo magari non vi piace il padiglione ma trovate quello spunto per tirarne fuori delle emozioni e dei pensieri nuovi quando qualcuno chiede come vivremo assieme la vera domanda è assieme chi? chi siamo noi? chi saremo noi? il prodotto finale non mi ha fatto impazzire però l'ho trovato molto interessante anche lì non vi starò a spiegare tutti i padiglioni perché sicuramente potete farlo sul momento tra l'altro la Biennale sappiate che se non mi ricordo male inizia da marzo e finisce a novembre e quindi avete tutto il tempo e potete scegliere il periodo che più vi aggrada il padiglione centrale una volta fatti i primi 5 o 4 padiglioni arrivate al padiglione centrale il padiglione centrale raccoglie un po' dei vari artisti che stanno rispondendo alla domanda principale cioè raccoglie veramente il cuore del tema della Biennale di quest'anno Together anche qui ovviamente molto sparso molto vago ci sono tantissime opere ovunque si rischia di perdersi dei pezzi ma tenendo una specie di giro di circombalazione potete farcela qui forse l'opera che mi è piaciuta di più è stata If the World Was Upside Down era difficilissima da comprendere all'inizio ma era letteralmente un globo gigante dove una volta aperto dentro l'artista ha deciso di scrivere possibili scenari futuri su quello che potrebbe succedere esatto non l'avrei mai capito da sola ma fortunatamente ci sono delle fantastiche scritte e durante la Biennale di Architettura vuoi perché i progetti sono un po' più pratici a volte era molto più chiaro era molto più chiaro quindi ho apprezzato molto a volte sono troppo stupida per capire quelle dell'arte continuando il giro un altro dei miei padiglioni preferiti generalmente però durante gli anni ho visto cose fare cose incredibili a tutti i padiglioni solo a giro a volte mi hanno deluso a volte no ma ripeto secondo le mie caratteristiche preferenze personali non vuol dire una cippa uno dei step più difficili c'è più che altro che ti puoi perdere dopo il bar continuare sul ponticello e finire dalla parte del Egitto Egitto, Serbia e il mio preferito che non mi ricordo mai chi sia però li amo profondamente scusatemi anche quest'anno dei Delivered perché loro hanno sempre questa cura maniacale rispetto a tutto quello che fanno soprattutto hanno toccato uno degli elementi che secondo me io pensavo che pensavo di trovare molto di più visto la tematica ma forse è un concetto uno era stato molto esposto nel 2019 due forse gli architetti sono un po' più pratici oggettivamente elementi di data science data analyst e il fatto che vivremo molto probabilmente su una piattaforma completamente digitale per una buona percentuale del nostro tempo loro hanno toccato questo elemento l'hanno toccato con vari tipi di riflessioni vari progetti e hanno inserito l'architettura con il fatto di portarvi a pubblicare postare quello che sarebbe il vostro mondo ideale e a fine biennale se non mi ricordo male creeranno appunto una riposteranno creeranno la città ideale secondo le persone che hanno partecipato loro sempre sul pezzo ad esempio in quella parte lì di solito l'Egitto è quello che mi entusiasma meno o comunque l'Egitto è uno di quei padiglioni dove mi sento meno attratta meno interessata alle loro idee quest'anno era incredibile quello di architettura è stato incredibile l'esempio perfetto di cosa intendo io per un padiglione fatto bene ovvero un insieme di wow perché comunque la stanza era incredibilmente allestita spero che si capisca dal video e in più ogni parte di quella stanza raccontava una storia perché il concetto era la diversità il gruppo che non è gruppo ma è singolo e viene spesso dimenticato un problema sociale fortissimo in Egitto dove era chiarissimo chiunque entrasse addirittura la scritta principale era una scritta unica ma divisa all'entrata da un elemento quindi tu non lo vedevi non lo capivi finché non facevi il giro di tutta la stanza era anche un copy che secondo me lo prenderò come spunto copy da qui a tutti gli anni a venire perché era incredibile questo è quanto a volte ci sono opere incredibili ad esempio la Germania il primissimo anno che sono andata aveva fatto una chiesa sconsacrata inquietante incredibile mastodontica ero rimasta scioccata e quest'anno invece non mi ha fatto impazzire secondo me la soluzione non era un granché c'erano tantissimi software che non funzionavano quest'anno ma apprezzo sempre il tentativo di inserire nuove tecnologie questi sono i giardini mini rappresentazione dei giardini tanto vedete cose sullo schermo passiamo all'arsenale l'arsenale è subito lì a fianco letteralmente 10 minuti a piedi azzarderei a dire l'arsenale è esattamente quello che il termine dice ovvero un arsenale cioè una zona di produzione navale principalmente e è fatta di questo corridoio infinitamente lungo che poi curva L e va a inserirsi in una zona che è stata chiaramente aggiunta dopo dove continua un altro maxi corridoio di altri paesi e per finire con il padiglione dell'Italia l'arsenale non prendete vere queste parole me l'aveva detto qualcuno non mi ricordo neanche chi ma lo trovavo super affascinante è così lungo perché lì venivano intrecciate le corde navali gigantesche ed è un pensiero che faccio ogni volta che entro lì dentro e se non è vero non ditemelo perché mi affascina tanto comunque l'arsenale invece qui è molto più casinaro è molto più casinaro non ci sono divisioni per paesi se non appunto nella seconda parte la prima sezione è un mix di opere opere ovunque devo dire che per il mio gusto personale difficilmente l'arsenale supera i giardini per una serie di fattori e anche quest'anno effettivamente ho preferito i giardini all'arsenale ma comunque la possibilità di giocare sì perché l'interattività delle opere secondo me è incredibile ed è anche una delle cose che preferisco in assoluto non tutte le opere lo fanno anzi la maggior parte non lo fanno ma quando qualcuno lo fa cambia la giornata cambia la giornata perché sono una bambina evidentemente uno dei miei preferiti in assoluto di tutto l'arsenale era questo super cubicolo musicale che voleva mandare un messaggio di una creazione di una nuova società lasciando indietro alcune delle identità tossiche che abbiamo già creato ma non so perché tutte le loro copy tutte le loro scritte mi dava l'idea di 1984 all'ennesima potenza non era secondo me il risultato che volevano raggiungere ma ho adorato tutto quindi mi sa che non ci importa perché l'arte purtroppo è soggetta a pensieri personali e se passano per il mio cervelletto di solito sono di bassa qualità comunque l'arsenale è esattamente di nuovo un esploso come il padiglione centrale dei giardini del tema quindi anche qui si affronta how we will live together essendo di architettura ho visto tante cose molto molto pratiche forse troppo pratiche ma ci sta è la biennale di architettura per poi arrivare in fondo dove troviamo alcuni padiglioni sparsi altri padiglioni secondari altri padiglioni di paesi che probabilmente si sono aggiunti dopo col tempo e devo dire che questa parte qua l'ho trovata a punti di riflessione poco patos ma non importa arriviamo invece al padiglione ma gusti personali arriviamo all'ultimo padiglione che è quello dell'italia l'italia ogni anno al suo padiglione alla sua entrata fichissima ogni anno io dico ma perché ma perché ora la biennale di architettura è sicuramente una cosa a parte oh no no c'erano dei temi che secondo me sono stati espressi con una banalità disarmante e devo dire che a parte la primissima biennale a cui sono andata dove il tema del tra l'altro il tema il padiglione d'italia è uno di quelli che ha un tema dentro il tema quindi loro fanno un po' come gli pare perché si danno il proprio titolo e ho paura che quest'anno fosse resilienza che la primissima biennale che ho visto se non mi ricordo mai 2012 il tema della biennale era cosa nostra non penso di essere sono rimasta così scioccata così colpita da quella selezione di opere spero di potervi trovare un video rassuntivo di quel padiglione di quell'anno perché sono gratissima di averlo visto veramente incredibile per una volta ho visto la mafia raccontata veramente a 360 gradi in un modo affascinante spaventoso allo stesso tempo ma non ho mai più visto un padiglione d'italia così bello devo dire meglio per dirlo appunto opinioni personali e questa è principalmente la biennale però tenete conto che la biennale stessa si sparge per tutta la città come il fuoristalone di milano ci sono eventi collaterali ovunque ad esempio uno dei miei preferiti è Palazzo Bembo che è gratuito tra l'altro dove potete provare tantissime cose diverse tantissime opere artistiche incredibili nel 2019 ero riuscita a visitarlo e avevano fatto un lavoro fantastico e trovate una mappa della biennale trovate anche tutti gli eventi collaterali dentro disponibili nel periodo in cui andate voi guardate se c'è qualcosa che vi interessa di base ora io sono stata qua a dirvi fin troppo ma spero che le immagini abbiano parlato un po' più per me in modo più affascinante la chiudo qui spero che vi sia piaciuto fatemi sapere se siete mai stati alla biennale o meno e vi mando un bacione ci vediamo alla prossima ciao cactus